In un anno fa abbiamo fondato l'osservatorio permanente delle PMI, che è un momento, è un'istituzione, istituzione che tiene monitorato l'andamentale sulle PMI, che per ICME AISON sono l'asse portante dello sviluppo strategico del Paese e noi diamo, come è noto, contributo allo sviluppo della cultura d'impresa. Dopo un anno oggi siamo qui per fare il punto della situazione appunto sullo stato di salute delle PMI e per, come sempre, ICME AISON fanno dare modelli, strumenti per la cultura d'impresa e anche dare proposte chiare, strutturate al governo e alle istituzioni. Siamo in compagnia di tanti amici, persone onorevoli, abbiamo due tavole rotonde, una che parla appunto agli imprenditori e una che parla alle istituzioni. È un momento di incontro, di riflessione, l'osservatorio permanente per le PMI continua la sua strada, con grande successo. ICME AISON sono molto impegnate e concentrate appunto nello sviluppo di questa importantissima istituzione a favore dell'asse per noi principale della strategia del Paese nei prossimi anni, che sono appunto le piccole e medie imprese, che rappresentano, ricordiamo, circa il 90% delle aziende italiane e oltre l'80% degli occupati nazionali. Quindi concentrare le energie e gli sforzi su questo importantissimo asset nazionale è fondamentale.